Con Celentano, che è un mostro sacro del cinema italiano, con il film che batte il record di incassi, che rapporto hai avuto? Con Celentano è un rapporto difficilissimo, ho fatto quattro film, perché la mattina presto per esempio è difficilissimo convincerlo a venire puntuale Non si può! E poi, non so, costringerlo a lavorare, a pensare, io gli offro dei caffè, dei bicchierini di china, gli spiego, ecco, il film che stiamo facendo si chiama Bingo Bongo Cominciamo da zero, le scene che dobbiamo fare sono queste, lui però naviga nel vago più assoluto La mattina? E almeno una decina di volte durante questo film, la mattina veniva e mi chiamava Adriano, mi diceva senti Adriano E allora io gli spiegavo, no, Adriano sei tu, io mi chiamo Pasquale Addirittura Senti, e i tuoi rapporti, Carol, con Adriano, un personaggio come lui? Ma non si può spiegare una cosa pazzesca Sì